Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo video dedicato agli aggiornamenti di Minecraft Oggi vediamo lo snapshot 22v16a E ragazzi iniziamo casualmente all'interno di una birch forest Tenete a mente il bioma delle betulle perché ne dobbiamo parlare dopo Ma prima di tutto hanno aggiunto un nuovo loot nel deep dark Ebbene questa è la novità più interessante di questa versione Intesa come snapshot, tra poco andremo a vedere Ma prima vi avviso che ho installato lo snapshot e per farlo l'ho dovuto fare in un'installazione tutta nuova del gioco Perché appena tentavo di entrare nei mondi in single player crashava tutto Non so se è un problema solo mio ma in caso fateci attenzione E che cosa hanno aggiunto nel deep dark? In particolar modo nelle deep dark cities Come ormai è una tradizione apparentemente di ogni versione Anche in questa versione abbiamo un nuovo disco musicale Eccolo qui, il disc 5 Il disco numero 5 La particolarità di questo disco musicale È che oltre ad avere i colori dallo sky che un po' ricorda appunto il luogo da cui proviene È che è l'unico e il primo disco nel gioco che non si ottiene intero Ma si crafta a partire da 9 disc fragment Che sono questi oggetti qui Che possono essere trovati nelle città antiche Quando ottieni 9 di questi frammenti che pare saranno rari Li potrai craftare così per ottenere il disco numero 5 Quindi capite bene che chi come me ha già esplorato la città antica E poi la riesplorate per trovare il nuovo loot La dovrà riesplorare per trovare questi frammenti E proprio per questo motivo stasera alle 20.30 Sarò in live per riesplorare la città antica E per cercare i frammenti del disco Vi aspetto link in descrizione 20.30 Ammesso che funzioni tutto perché non mi fa ancora aprire i mondi Quindi per ora è un casino Per fortuna ora siamo in uno snapshot e in un mondo pulito Quindi basterà fare locate città antica Andiamo a tipparci E andiamo subito a vedere Quindi questo nuovo loot sarà possibile rintracciarlo nelle cesse della città antica Come vedete questa città antica è sponata con una mineshaft a intersecarla Molto ma molto carina Vediamo un po' le prime chest Vediamo se abbiamo fortuna Direi in questo caso di no E anche in questo caso no Però c'è un eco shard volendo Non sappiamo ancora se saranno questi nuovi oggetti più rari Però tipo qui abbiamo un frammento del disco E qui invece nulla Tutto ciò mi fa pensare al fatto che probabilmente dovremmo esplorare più di una città antica Per ottenere l'intero disco Che diventerà un oggetto davvero molto difficile da ottenere e collezionare Guardate abbiamo trovato solamente un frammento e non sembrerebbe essere così facile trovarne un altro Ultimo tentativo Niente frammenti Ultimissimo bonus Zero frammenti però c'è Otherside Capite bene che di fatto questo nuovo disco musicale diventerà il disco più raro di tutto il gioco Ho trovato Otherside in una chest E ho trovato un solo frammento del disco Ne serviranno nove per craftarlo Quindi a meno che non ci sarà una modifica Questo oggetto sarà estremamente raro Ma visto che possiamo tutto grazie alla creative Andiamo a prendere un bel jukebox E andiamo ad ascoltare insieme questo disco musicale Vediamo perché vale così tanto Ecco qui disco numero 5 Ok Effetti da Deep Dark Sono suoni Non è una canzone Per ora almeno Sembra la registrazione di qualcuno Mentre Ok Che sta succedendo E' partita la musica Essendo che ho molta fretta Devo fare questo video al volissimo Come sapete Lo snapshot esce Mi metto subito a lavoro Non posso sentirlo tutto Ma c'è una sorta di narrazione Un esploratore sta andando nel Deep Dark Incontra il Warden E poi parte una canzoncina Come se fosse un calmante per il Warden Beh interessante Andrebbe ascoltato tutto con molta calma Dubito che lo faremo in survival tanto presto però In aggiunta a questo State ascoltando di sottofondo Poche semplici note Ma è uno dei nuovi pezzi Della soundtrack del gioco Infatti Oltre al disco 5 Sono stati aggiunti Tre nuovi brani Scritti dalla solita Lana Lena Rain Che ha fatto dei pezzoni come Pigstep All'interno del gioco Sono delle nuove soundtrack Per il Wild Update Quindi vi tengo sotto un attimino Questo Chill musicale Però li troveremo nel gioco In alcuni biomi particolari Oppure nel menu di gioco Ci sono varie modifiche all'interno di questo snapshot Modifiche agli alley che adesso andremo ad approfondire Il fatto che le rane ora sponeranno anche sull'erba Il fango I tappeti Di muschio Le radici di mangrovia E i blocchi di fango Con radici di mangrovia Quindi hanno più possibilità di sponare Prima magari ne sponavano meno Perché in alcuni blocchi non potevano farlo Ma detto questo C'è anche una nuova game rule Apparentemente Che si chiama Do Warden Spawning Se lo mettiamo su falso Il warden Non sponerà Banalmente E quindi Gli shrieker Saranno totalmente safe E oh mio dio Che brutto Questo bioma Che si è creato Perché Parliamo ora invece Degli alley Andiamo a mettere qui Un piccolo amico fatato Gli alley Ora saranno molto più lenti Quando gireranno in giro Tranquillamente Ma diventeranno più veloci Quando Dovranno collezionare oggetti O andare dal player O andare verso il note block La sua salute Aumenta da 10 a 20 Quindi è ancora più difficile ucciderli Si vede che Continuano ad avvenire incidenti Dove li uccidono per sbaglio E il delay Dopo che hanno Buttato un oggetto È stato ridotto Da 5 secondi Che era prima A 3 secondi adesso Inoltre L'area di ricerca degli oggetti È stata aumentata Da 9 a 32 blocchi Quindi diamogli un po' di oggetti Da prendere E suoniamo il note block Così Che venga a tirare Un po' di oggetti Perché apparentemente È stata anche Rivista La parabola Di lancio Vediamo bene Ok Si Effettivamente è leggermente diverso Sembra che Lanci l'oggetto Molto più vicino al target Anziché giocare a palla canestro Come faceva prima Probabilmente in questo modo Sarà più comodo Acchiappare gli oggetti Con una tramoggia Ci sono tantissime Novità tecniche Che trascureremo E un sacco di bug fix Ma la cosa che Mi preme citare È il fatto Che hanno aggiunto Un tag Che permette di decidere Ovviamente Tramite comandi Data pack E cose così Se un quadro Può essere piazzato O meno All'interno del gioco Approfittando di ciò Hanno inserito Anche in Java Edition Quattro quadri Che erano nella Bedrock Edition Dove sono tuttora Inutilizzati Anche Java Non potranno Sponare questi Quattro quadri A meno che Non vengano implementati Tramite data pack Sappiate però Che esistono E che riguardano Gli elementi naturali Sono molto carini Ma apparentemente Non li potremmo avere Tanto facilmente E ora ragazzi E ora Il facciole troppo zoomato Magari no Ma ci fermiamo un secondo Ricordate che all'inizio Vi ho parlato Di un bioma di betulle E guarda caso Dietro di me C'è un bioma di betulle Oggi voglio finire Lo snapshot Con delle considerazioni personali Solitamente Nelle ultime versioni L'aggiunta del disco musicale E delle nuove soundtrack Segnava l'ultima feature Giunta al gioco Prima della chiusura Della versione Siamo molto vicini All'estate Oramai anche se non sembra E fa abbastanza freddo Ancora In alcune zone d'Italia Ma essendo che Aprile Volgirà Presto al termine Avremo tutto Mese di maggio Per fare snapshot Di bug fix Per fare le pre-versioni Le versioni candidate Eccetera eccetera Ed è facile Che con questo passo Si arrivi a una pubblicazione Della 1.19 A fine giugno Magari E quindi in estate Come è giusto che sia Questo ve lo sto dicendo Per un semplice fatto È crashato il gioco Cazzo Mentre stavo parlando Stavo dicendo Il reveal È crashato il gioco Mojang mi stai per caso Censurando? Rieccomi Reinquadriamo le betulle Stavo dicendo Prima del misterioso crash È crashato ancora E non mi voglio far parlare Ma che è Apparentemente sono costretto A parlare nel menu Perché è crash Stavo dicendo Che sembrerebbe Che siamo arrivati Alla fine Del ciclo evolutivo Della 1.19 E quindi Le foreste di betulle Che erano da aggiornare Che fine hanno fatto? Perché non ne hanno mai parlato? Non hanno mostrato nulla E non ne parlano? Perché L'utenza Gli riempie di domande E nessuno Ha ancora risposto A un singolo utente? Beh A questo punto Penso che Potremmo essere di fronte All'ennesimo Rinvio O annullamento Di una feature E quindi le betulle Non verranno proprio Aggiornate in questa versione Perché è troppo strano Che siamo arrivati Al punto Di mettere le soundtrack E di Potenzialmente Concludere Lo sviluppo Delle snapshot E ancora Non si sa nulla Quindi ragazzi Non è detto Al 100% Ma penso Che arrivati a questo punto Le betulle Non verranno messe Non so i motivi Attendiamo Una comunicazione Da parte di Mojang Perché al momento È davvero stranissima La situazione Detto questo Un'altra considerazione Che volevo fare Scusatemi il menu Però il mondo crasha È il fatto che Il deep dark Alla luce di tutto Non vale la pena Di essere esplorato Hanno messo Dei nuovi loot Hanno messo Questo disco Che farà smattare Per ottenerlo È davvero molto raro Molto difficile Ma non vale la pena Di andare fino a lì E combattere I warden Perché i tesori Che troviamo Sono fine se stessi E quindi credo Che per ora Il deep dark Sia da considerare In completo E tutte le mie speranze Sono rivolte Al portale Al centro Della città antica Che probabilmente Un giorno Si attiverà E farà In future versioni Qualcosa di molto importante Per adesso però Non ne vale molto la pena Non so cosa ne pensiate voi Ma in definitiva In questa versione Non sono pienamente soddisfatto Tante novità carine Blocchi bellissimi Ma come avevo paura La delusione Del minecraft live Dell'anno scorso Si sta materializzando In una versione Sotto le aspettative Ma se neanche le betulle Saranno effettivamente Aggiornate Beh allora ragazzi Secondo me questa versione Sarà presto dimenticabile Spero di sbagliarmi Voglio sapere cosa Ne pensate voi Nei commenti Ma volevo anche Dare questo piccolo angolo Finale al video Perché sia per Aggiornarvi sulla questione Sia perché Da un certo punto di vista È giusto dire Quello che si pensa Ed è giusto rispondere Quando molti di voi Mi chiedono opinioni Mi chiedono Ma che fine ha fatto Il portale Che fine ha fatto La betulla Non si sa ragazzi Non si sa E probabilmente Per ora Siamo destinati A non sapere Quindi staremo a vedere In tutto ciò Ci vediamo in live Stasera alle 20.30 Sperando che lo snapshot Funzioni Così da poterlo utilizzare Perché come vedete Crash È praticamente ingiocabile Oppure faremo Dell'altro E ci vediamo Domani con un nuovo video Un saluto da Eren Ciao a tutti 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 Ciao a tutti